I miei ricordi degli anni 70 sono quelli di un bambino che si affacciava al mondo, alla vita, alle prime amicizie e quindi il ricordo dei primi cartoni animati a colori, le volte che si giocava a scuola con le figurine panini e poi in vacanza con le biglie dei grandi campioni del ciclismo, Saronni, Moser e poi i grandi eventi sportivi che affascinavano tanto noi bambini. A partire dai mondiali di calcio del 1978 con quello straordinario gol di Bettega contro l'Argentina o la finale vinta in Coppa Davis dai nostri grandi campioni del tennis.